Xinko, ma perché non stai facendo video? Non lo vedete che tornavi? Beh, lasciate che vi mostri il motivo, anzi, uno dei due motivi per cui non sto facendo video. Lo vedete il motivo? Spiegatemi voi, con un gioco simile, come faccio a concentrarmi mentre faccio video. Spiegatemelo. Cioè, spiegatemi come posso anche solo pensare di fare un video quando c'è un gioco del genere gratis su Steam. Cioè, c'è, perché mai dovrei fare video quando c'è una cosa del genere? Cioè, sentite sti versi. Cioè, c'è, ragazzi, davvero, volete una spiegazione? Non lo capite da soli guardando questo video? Cioè, non capite da soli, davvero? Perché, se non capite, ci sono un paio di problemi, eh. Giusto un paio. Giusto un paio, forse, eh. No, comunque, scherzi a parte, mi si sono rotte le cuffie, quindi microfono non posso più collegarlo qui. Ho comprato un nuovo microfono, un microfono, però devo aspettare l'adattatore che mi dovrebbe arrivare l'8 agosto. Quindi sì, l'8 agosto, appena arriva, se tutto funziona, mi metto a registrare una nuova parte di Pokémon Discovery. Yeah! E a proposito, chiudiamo sta cosa che magari, che poi dopo mi sento sporco nell'anima. Guardate il mio bellissimo coso. Volevo fare un'altra cosa. Siccome c'è questo gioco, questo gioco e questo gioco qui, che ho scaricato tramite un bundle di Humble Bundle, a cui voglio giocare, però se mi metto a registrare dopo non ho tempo per giocarsi, mi chiedevo volete che porti tipo una serie su questi... no, questo evitiamo. Su uno di questi tre giochi? Se sì, ditemelo nei commenti, amen. E nulla. Nulla. L'8 agosto mi metto a registrare. E comunque, andate a rivedervi il video di Pokémon Discovery, perché vi ho chiesto che route volevate che facesse e ancora nessuno mi ha risposto, quindi sarei grato se mi rispondeste prima che iniziassi a registrare, così magari faccio ciò che volete voi e non per forza ciò che voglio io. Così siete più felici e guardate di più i miei video. Comunque, per questo episodio è tutto, non ci vediamo in un prossimo episodio. Bye bye!